Salute Il pontefice era visibilmente affaticato e non ha continuato con la lettura del discorso. Non sono state fornite informazioni riguardo un eventuale rinvio degli eventi pianificati per il pomeriggio, compreso l'incontro con 7.000 bambini provenienti da tutto il mondo in aula Paolo VI. Tuttavia è certo che Papa Francesco ha voluto comunque consegnare il suo discorso ai rabbini europei. Grazie